E benvenuti a tutti e benvenuti in questo nuovo video sulla serie di Fortnite Siamo qui oggi in questo nuovo video per parlare della season 7 Sì scusate se non parli da vedere perché era scusato In una settimana la potete registrare le altre serie Vi scocciamo quindi oggi si registra Oggi è domenica 16 Allora il video uscirà domani 17 Come lo vedete domani 17 Allora sono lì per noi di sede del pass battaglia E come potete vedere ho sbloccato lo striscione rosso E il sergente Bruma Ecco sono ancora la prima fase perché ho sbloccato solamente l'altro ieri Tra un'attacca quindi tra un'attacca sbloccheremo gli altri 100 bombatti Arriveremo a 1100-200 bombatti Quindi direi di fare questa missione della sproponza degli rifugiati E fare la missione e poi ci sono le varie sfide per i maleri che faremo dopo Però questo io non è basato su questo Ho detto Scusate se non vi aggiornate come al solito Come facevo prima Nelle mani su Fortnite Nella spada Nelle aneri Eccetera Ma come ho detto non l'ho registrato E poi la spada l'hanno già tolta Quindi non ha senso E l'hanno fatta anche bene attuale Mi potevo pure avvisare della nuova città che si è riconvversa sul picco polare Perché l'avevo visto il giorno prima Io non so come se non sarebbe stata la genovetta della città Se no avevo potevo pure prostrate tramite alcuni glitch Però non ci ho pensato E quindi ho detto va per sciare Siamo qui oggi quindi per fare Per iniziare la nuova season Noi che si è iniziata da due settimane La Random Chest Challenge Questa challenge secondo me è solo di prendere le armi Che si trovano nelle ceste Tipo se facciamo ma non vedo che lo troveremo mai Se troviamo un barret per terra Solo le munizioni Il barret non si può prendere Faremo una o due partite Perché una non ci basta E andremo in battaglia Andiamo sul campo di battaglia E che dico Buona missione Ok ragazzi Siamo sul campo di battaglia Cioè siamo nello spawn Direi di Tanto non so che faccio vedere la nuova città Quindi andiamo Rifugio Meh Ci sta raggiando Non me la voglio rischiare sta partita Andiamo a spawner Stankage Non me la voglio rischiare Solo per fare queste stupre missioni Io le devo passare Questo dobbiamo andare più per terra Non lo possiamo trovare Quindi dobbiamo stare Morto E' come possiamo sperare So che non posso farlo E non è bomba You got your chest Alla mamma 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 Ok ragazzi andiamo a spawner saccare come avete potuto vedere c'era una cappa per terra ma non l'ho potuta prendere, lui sento una chest, andremo a prendere. Iscriviti al nostro canale, iscriviti al nostro canale. Ah, e non possiamo prendere neanche il loot dalle persone che uccidiamo Quindi No, vabbè, no, vabbè, sta partire andata così, eh Eh, mi sta pure laggando, guarda, il 462 di ping, come si fa, eh, come staccare il telefono? Il 462 di ping è troppo, vabbè che ho pure la porta chiusa, ecco Ok, e allora, questo è andato come doveva andare, quindi ora cerchiamo di fare rifugio e ritirato e sprofondo standi e prenderemo un aereo per andare a sprofondo, Non so, c'è pure l'eliminazione con armi diverse, dici che ho un mio compagno, è la data dell'eliminazione, quindi ora ci proveremo, come va, va Ah, la stellina della settimana 1 si trova sul sottomarino, mentre lo stendo alta ancora, non lo so di preciso, ma quando fino alla settimana ve lo dirò Anche se credo che stasera la finirò, perché, ora, è diverso da fare, rifugio di tante sprofondo standi e devo visitare, e basta Quindi non è che devo fare chissà che cosa, sì, diciamo che ste, ste settimane sono piuttosto semplici, questa nuova sera, perché non mi si lascia di fuori? Non... Alla bene, abbiamo rifugio, eh Andiamo a sprofondo a sprofondo, oppure che gente ci sia Ho paura che gente ci sia Ehm, lo facessimo è che ci siano tantissimi Allora, mi prendo già un elio qui Un po' di giallo Ehm, bello, bello, bello Grazie a tutti 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 Grazie a tutti